La scuola Taida Talbushara di Ashti Kamp è una scuola che accoglie 600 bambini su due turni da 300 300 al mattino e 300 al pomeriggio l'abbiamo inaugurata il 30 di settembre abbiamo iniziato i lavori al 12 di agosto quindi la testa è stata costruita a tempo record è fatta di 13 caravan di cui 12 sono aule diciamo normali che accolgono 30-35 bambini e una è la sala computer in più ci sono i due uffici per il direttore e per i professori diciamo che stiamo costruendo la parte esterna adesso faremo una copertura che permette ai bambini di fare lezioni o attività anche all'esterno perché chiaramente l'estate fa troppo caldo e l'inverno quando piove è impossibile utilizzare il nostro attenzione per il nostro attenzione ciò per il nostro attenzione per il nostro attenzione che accolgono lezioni di autostrada